Luciano Spinosi, uno degli eroi dello scudetto del 2000, secondo di Ericsson. Luciano, cosa significa questa sera? Ma è un bel ricordo, l'incontro dopo sono passati 15 anni, quindi rivedere quei ragazzi che sono sempre uguali, chi più chi meno, è una bella cosa. Sono stati, ho fatto 7 anni alla Lazio, sono stati 7 anni bellissimi, noi abbiamo vinto e ci è mancata solo anche lì la Coppa dei Campioni, però abbiamo vinto lo scudetto. Avete vinto forse meno, come si dice sempre, di quello che meritavamo. Sì, però c'era la squadra che erano forti, i ragazzi erano un ottimo gruppo, veramente potevamo fare qualcosa in più. Poi tu hai avuto questa opportunità di vivere le due facce della Capitale, che hai avuto anche un passato nella Roma. Sì, però non come ho fatto alla Lazio, la Lazio sono stati 7 anni di seguito, alla Roma sono stati due mesi, poi ho fatto tanta primavera. Quindi è stata una parentesi. Esatto, alla Roma ho giocato tanto. Senti, una domanda che può sembrare banale, però in realtà credo che abbia un significato. Cosa è cambiato in questi 15 anni di calcio da quando la Lazio ha vinto lo scudetto nel 2000? Beh sì, sicuramente è cambiato il modo di giocare, la mentalità, i giocatori, gli allenatori, 15 anni sono tanti, quindi io potrei anche dire se quella squadra dei 15 anni fa ci fosse adesso, non ce n'è per nessuno. Io credo, adesso non vorrei fare così il fenomeno, però è una bella squadra. E' del percorso di questa Lazio? Mi è piaciuto, perché non pensavo all'inizio, ho detto oddio, no, e poi invece piano 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 si è dato da fare. Cosa ti ha stupito di più l'allenatore in questo anno, alcuni calciatori? L'allenatore che ha saputo mettere i giocatori ai posti giusti, che giocano, giocano bene, sono amici, è importante questo. Anche nella partita contro l'Inter, hai visto che c'è stata una prestazione quasi eroica? Sì, 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 ma con tre partite può ancora fare tutto, io mi auguro che arrivino secondo e terzi, Lazio-Roma, Roma-Lazio, insomma, io mi auguro, tanto perché sono due squadre di Roma, io sono romano, è bene così. Grazie. Grazie a voi. Ciao.